ok ragazzi mi è appena arrivata una mail che adesso leggerò leggerò faccio un sunto di questa mail perché si aggrappa esattamente con il quello di cui voglio parlare oggi cioè quando una donna si allontana una donna si raffredda vi stavate frequentando lei sparisce dalla faccia della terra oppure sei in una buona relazione e lei comincia a trattarti con disprezzo si come ho detto prima si raffredda non è più senti che non c'è più la situazione di prima quella dove tu avevi il controllo oppure arriviamo a un discorso in cui vi siete lasciati una situazione siete usciti per qualche tempo e poi la cosa è finita e tu ti domandi perché quando una donna si comporta così come reagisci come affronti questa situazione oggi guardiamo questo qual è il modo migliore soprattutto per riattivare l'attrazione per riattrarla per riconquistarla ok intanto se non mi conosci io sono giosua di attrazioni x puntocom cosa faccio non insegno a sedurre non insegno neanche a riconquistare le ex a dire la verità però se mi seguite capirete il perché io mi occupo di della psicologia della trazione di come funziona la trazione i meccanismi della trazione tra uomo e donna dall'inizio fino alla fine che una fine in verità non c'è se seguite i miei video oppure se leggete il mio libro lo trovate su amazon si chiama trazione x il link è in descrizione allora prima di partire come dicevo volevo leggere una mail mi è arrivata proprio in questi giorni non dico il nome se mi ascolta sa di chi parla ovviamente ho tagliato delle parti perché non mi ha scritto per per un motivo mi ha scritto per un altro che 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 chi la faccio un po lunga insomma chi al mio libro ha disponibilità ad avere un bonus dentro il libro c'è un bonus a proposito voglio fare mando un avviso chi fino ad oggi ha scaricato un bonus e sa dove andarlo a trovare perché c'è un link segreto all'interno del del sito riandateci vi invito a riandarci da oggi in poi perché il bonus è cambiato visto vi faccio anche le figate non mi invento le cose cambi bonus così vi quindi vi invito a ritornare su quel link troverete un altro bonus questa cosa potrebbe continuare all'infinito quindi ogni tanto riandateci oppure seguite questi video che vi avverto quando i bonus cambiano bellina ma chi chi ve le fa queste vada allora il la mail dice ciao gesù è intanto grazie grazie dei tuoi video visto visti quasi tutti scusate mattina io la mattina faccio fatica e del libro letto in una sera che ora sto rileggendo barra studiando ti ho conosciuto qualche giorno fa attraverso il video youtube il video è lei ti dice che è confusa e vuole tempo per stare da sola ve lo linko qui che così per lui è stato interessante infatti ha detto e ho preso subito il tuo manuale quindi andate direttamente in quel video che lui l'ha trovato interessante potrebbe essere interessante anche per voi se solo lo avessi letto qualche settimana fa forse mi sarei evitato di bruciare un bel rapporto che ora non so se riuscirò a recuperare per quanto io stia lavorando su me stesso e abbia voglia non bisogno di ricreare qualcosa con lei per tutta una serie di motivi e compatibilità questo non bisogno ok voglia va bene dai facciamo che tu hai voglia e non bisogno queste cose le spiego nel mio libro ragazzi in effetti sarebbe interessante avere una consulenza di confronto con te sul caso specifico vorrei provare un recupero attrazione con una ragazza che ha deciso ormai di chiudere il rapporto ragazzi se avete bisogno di una consulenza andate sul mio sito l'ho citato prima e lì andate su consulenza la prenotate lì rapporto durato un mesetto con sesso e tanto tempo passato insieme da coppietta innamorata lei dice ti amo molto presto tra parentesi oggi so che non è davvero così anche questa cosa la spiego nel libro ci sono dei tempi ragazzi di innamoramento di una donna ma non è il video opposto io inizialmente spaventato ma poi mi allineo e divento più emotivo di lei e poi si è raffreddata ma dai il bello è che lei ha iniziato a dirmi esplicitamente che voleva spazio e non ce l'avrebbe fatta o non ce l'avrebbe cosa vuol dire che voleva spazio non ce l'avrebbe fatto insomma a mantenere il rapporto ma più volte non ho capito fino a portare la cosa ad una situazione in cui mi vedeva probabilmente debole e si sentiva soffocata al che mi ha chiesto di rompere di andare oltre ed oggi è totalmente un fantasma ok questa è la mail ringrazio il ragazzo che mi ha scritto questa mail farò un video così che non sarà esplicativo non sarà una consulenza fatta video questa qua perché voglio soltanto parlare del concetto di quando una donna si allontana si raffredda insomma si comporta così mi è capitata questa mail casualmente che parla proprio di questo argomento che avevo già schedulato allora in questa mail ragazzi se andate indietro ci sono chi ha già il mio libro capisce molte cose e cose lui si vede che ha letto il mio libro infatti usa dei termini come spazio dice mi vedeva debole probabilmente debole vedete come ci si accorge di alcune cose di alcuni errori soprattutto che facciamo in maniera inconsapevole comunque guardiamo il come reagire a questa situazione innanzitutto io da questa mail vedo subito una cosa che manca il rispetto il rispetto ragazzi dovete ne ho parlato anche in altri video gli uomini hanno bisogno di rispetto non hanno bisogno di amore quando noi ci troviamo in una situazione come quella citata in questa mail oppure quella che che guida questo video è molto probabilmente abbiamo fatto degli sbagli all'inizio soprattutto quando ci ci rapportiamo una donna la vogliamo sedurre vogliamo uscire con lei facciamo una serie di errori che non vanno a costruire la la trazione la trazione ragazzi si costruisce in prima prima di tutto con rispetto se non c'è rispetto in una relazione non entra la trazione se non entra la trazione non entra l'amore ragazzi dovete ricordarvi questa cosa importantissima noi non possiamo andare da una donna cercare di creare qualcosa con lei una relazione una un rapporto di coppia basandoci sull'amore non è una stronzata è una stronzata perché dico che una stronzata provate a pensarci quando una cosa finisce voi siete in questa situazione qui lei si è allontanata si è raffreddato oppure come dice lui è totalmente un fantasma cioè è sparita non si fa più sentire se voi date amore sapete benissimo come funziona sapete benissimo che l'allontanate sempre di più sapete benissimo che non c'è che lei non si può attivare quella cosa dove l'avete vista quella cagata lì provate a pensarci che lei vi molla ok lei vi molla lei se ne va lei si raffredda lei va con un altro lei vi tradisce voi date amore voi date amore usate la carta dell'amore per riconquistarla dove l'avete vista nei film nei film ma perché è molto bello è bello vende il film è figo tutto tutti vorremmo quella cosa lì ma non funziona così purtroppo non funziona così però ce l'abbiamo dentro ce l'abbiamo dentro perché un nostro sogno sarebbe molto bello ma ragazzi c'è purtroppo non funzionano così i rapporti tra uomo e donna non funzionano così i rapporti tra uomo e donna si basano sulla attrazione sulla chimica che c'è tra le due persone su dei fattori psicologici delle leve psicologiche che se noi uomini non riusciamo a trovare identificare sapere come fare leva su su queste cose appunto noi non possiamo usare la carta dell'amore non funziona quella cosa l'amore non serve l'amore arriva dopo che l'attrazione è entrata nella relazione l'attrazione come arriva grazie al rispetto come dico a molti ragazzi che vengono in consulenza se tu contatti una donna che era sparita si è raffreddata ti sei tu che la insegui certo lei potrebbe decidere di uscire con te non dico che non lo farà potrebbe uscire con te potresti anche farci sesso ok potresti riallacciare i rapporti ci sono tantissime situazioni che ho visto in cui lei è sparita per una due settimane tre settimane lui lui è riuscito a non inseguirla ok perché magari istruito sa come si fa ha seguito i miei video sa che non bisogna mai inseguire una donna in questi casi mai ma c'è un perché ragazzi non è che lo dico perché no no non bisogna farlo no non bisogna farlo perché c'è un motivo bisogna lasciare che sia lei di sua spontanea volontà a tornare caso uno se non torna ragazzi non è un problema ok cioè non è che dovete inseguire una donna in questi casi che se n'è andata lo sbaglio numero uno che potreste fare proprio inseguirla per farla tornare perché avete sentito i vostri amici le vostre amiche mai chiedere consigli ad amiche in questo caso l'ho spiegato anche in un altro video perché non bisogna chiedere a una donna non bisogna intervistare le donne cioè vi diranno soltanto le loro risposte saranno razionali ma le donne non sono razionali ok loro non si stanno trovando in quella situazione emotiva in cui si sono raffreddati in cui hanno visto che devono testare si sentono il bisogno perché voi forse potreste fare il caso suo e quindi scatta questa cosa che il test vi mette alla prova per vedere se proprio siete quella persona che stanno cercando quindi non andate a chiedere alle amiche di lei o le vostre amiche come ma com'è che si comporta una donna sono cagate quelle lì ragazzi sono cagate basta farsi stronzato ok quindi che cosa succede che passa due settimane tre settimane lui si fa forte forte passatemi questo termine dice no una donna non va contattata lei è sparita quindi io non la ricontatterò poi mettono in dubbio questa cosa infatti è lì che vi fottete è che voi dovete avete dovete avere fiducia in me in quello che dico perché poi dite no però cazzo se la ricontattavo magari potevo ricostruire qualcosa e vi cominciate ad autosabotare in una maniera che 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 dopo lei che cosa vede che voi l'avete ricontattata in questo momento se qualcuno si trova in questo momento in questa situazione potrebbe dire giosuè però io l'ho contattata e adesso ci sto uscendo io ho tornato a farci sesso con lei ho riallacciato i rapporti si era non dura tanto non dura tanto perché si basa e ve lo dico per esperienza questo ne sento tantissimi si basa non ne ho visto uno che abbia riallacciato un rapporto duraturo con una donna reinseguendo la ragazza non può essere ma perché perché se lei non è tornata di sua spontanea volontà non ha sentito la mancanza non ha sentito che voi potete potete vivere senza di lei lei non ha sentito questa cosa non ha avuto la prova certa che voi avete una vita avete altri interessi ma siete focalizzati su di lei sulla relazione su ricostruire il rapporto e quindi quella cosa lì non potrà mai mettere le basi solide per una relazione quindi il suo rispetto tornando al discorso di prima non sarà mai alto non sarà mai di qualità ok come se la situazione in cui fosse stata lei a tornare da voi lì ha nutrito davvero rispetto se voi tornate da lei se voi la rinseguite se voi la ricontattate sono passate due tre sei settimane ma se siete voi comunque ricontattarla se il risultato è che siete voi che avete perso questa battaglia lei non proverà niente per voi perché non proverà niente per voi perché il risultato è che il rispetto non c'è il rispetto sarà sempre più basso lei avrà il controllo della situazione tornerà a testarvi tornerà ad allontanarsi tornerà a raffreddarsi il suo livello di attrazione sarà sempre più basso ma se ci pensate se la cosa è nata che lei si è allontanata e voi l'avete inseguita lei può rifarlo vi mettete da soli nelle condizioni in cui può rifarlo esattamente come faccio un esempio per farvelo capire così eravate bambini ok giocavate con le macchinine telecomandate le ricordate quelle con così comincia andare lenta la macchinina che cosa fate mettete la pila al sole l'avete fatto spero ok se siete della mia generazione sicuramente l'avete fatto mettete la pila al sole e poi la macchinina per un po va eh ma la pila comunque scarica si è ricaricata un pochino è meglio che mettete una pila nuova per far andare la macchinina come lo volevate questo riprovarci è esattamente come mettere la pila al sole e provare a far andare la macchinina per uno due metri la donna avrà il controllo la donna tornerà a testa potrà rifare quella quello che ha fatto potrà tornare a riaffreddarsi potrà tornare a fare insomma quel cazzo che gli pare perché perché ha capito che comunque tu la inseguerai tornerai di nuovo lei quindi avrà più potere lei è qui ok tu sei qui il potere più basso ci siamo se lei sa che il potere più alto lei proprio percepisce che lei ha più potere non quando una donna più potere in una relazione non è mai una dinamica buona tra e per un rapporto tra uomo e donne già questo è funziona così ragazzi cioè non è assai maschilista io sono femminista quindi potere non centro un cazzo stiamo parlando di biologia se una donna sente che un uomo ha più potere di lei sarà tratta più potere più status perché cioè le donne vorranno sempre stare con un uomo di potere superiore di qualità superiore di valore superiore e se 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 lei sente intuitivamente visto che siete tornati voi e quindi avete dimostrato che non potete fare stare senza di lei ergo quindi non avete altre donne non avete altri obiettivi non avete una vita piena di cose a fare ragazzi se voi vi occupate di voi stessi in una maniera non finta cioè non prendiamoci per il culo se voi avete davvero tante cose da fare o anche soltanto una cosa da fare di qualità e ci spendete del tempo perché volete raggiungere un avete dei target degli obiettivi dovete fare qualcosa entro l'anno entro sei mesi dovete insomma dimostrare a voi stessi di raggiungere qualcosa ok cioè non avete tempo per gli amici non avete tempo per le donne non avete tempo per nessuno e questo la donna lo sente la donna lo vuole perché nessuna donna vuole che voi siate focalizzati su di voi la donna inseguirà l'uomo che ha qualcosa da fare l'uomo deve inseguire il suo obiettivo la donna in questo modo si sentirà sicura vorrà stare con un uomo così se lei ha qualcosa di più grande ok se lei ha più potere di voi guardate lei qui più potere di voi voi siete qui la donna inseguirà quello che ha più potere di lei ci siamo l'avete capita questa cosa se no tornate indietro quindi se la tua donna si è allontanata da te ti ha lasciato si è raffreddata vuoi sapere come riattrarla mi raccomando sul mio sito c'è una guida apposta ok è un piano di azioni in otto passi si chiama riattiva la trazione non è il mio libro attrazione x è una cosa diversa il mio libro attrazione x serve per capire esattamente come funzionano i meccanismi della trazione questa è una guida di recupero in tempi brevissimi ai gli otto passi fondamentali tutto ciò che devi fare ragazzi prima di fare cagate ok se sei in questa situazione non fare a modo tuo non c'è non perdere tempo veramente è lì vai su sul mio sito c'è questa guida te la leggi è piuttosto veloce tu dopo ai tutti i punti fondamentali ok altrimenti mi raccomando faccio consulenza sempre sul mio sito trovi trovi come prenotare una consulenza con me la figata è che se prenoti la consulenza con me questa guida è un regalo quindi vai così ci vediamo prossimo video ciao